Eccoci in partenza da Malga Framont con direzione Palade de Masenade, ecco Luca che passa Eccoci in partenza su moderni tempi, la parete in alto è al sole, qui c'è una cordata sulla decima e qui c'è il socio, il gogna di Bergamo, il grande Luke, eccoci qua ecco il ball in partenza sul primo tiro, ha frendato una buona fessura e verso l'alto, ecco il balda in partenza sul terzo tiro la nostra sosta con frend e clessida, eccoci in changer dopo tre tiri di raccordo e niente, qui siamo su una cengia, di raccordo, di raccordo la cengia e niente, adesso ci aspetta la verticalità eccoci sul primo tiro un po' di ingaggio, quarto tiro, sesto meno attraverso i tetti e la roccia si fa veramente bella che dicono i nostri soci della Settilina ecco Luca prima del chiave fai vedere il marciumi della cima Skys, come si arrampica infatti, ma figa se mi è piaciuto non vedi che bello? sosta attrezzata da non ho esatto guarda Luca, è sull'ultimo tiro vai Luca! ecco la fine giornata ragazzi contenti oggi? figa che trovi c'è la mangiare, c'è la bere ecco sono contenti adesso facciamo vedere la parete dove si è scalato oggi eccola là eccola là